Qualcuno mi aiuti! Ah, per fortuna siete arrivati voi ragazzi. Sono qui da ieri notte. Non ci credo, Skid McMarks! Ho visto tutte quante le tue gare! Nella Coppa Kerouan hai fatto un triplo giro supernova a Mach 2! Fa sempre piacere incontrare un fan, giovanotto. Io sono Clank, lui è Ratchet. Tuo zio ha ricevuto l'Infobot e ci ha mandato in tuo aiuto. Ah, cominciavo quasi a disperare. Io e il mio agente abbiamo passato la notte a scappare dai Blarg. Nel parapiglia ci siamo divisi e io mi sono schiantato mentre uscivo dal paradiso dello sport McMarks. Ehi, eliminereste gli squali della sabbia, così posso tornare alla nave? Se lo fate vi darò plus d'overboard. Cosa? Un vero McMarks 4000? Affare fatto! Attenzione agli squali della sabbia, fatello! Che sai fare, piccoletto? Wow, fantastico! Un branco di squali della sabbia ha invaso l'altopiano. Non è che potete pensarci voi. pre stretched la notte a scappare. Attettno, vắtius, venogl Kinab. Guarda! 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 Guarda. Guarda! 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 Mio caro Peosetto, ce ne sono altri sull'antopiano Squali della sabbia sull'antopiano Stai andando alla grande, ne mancano pochissimi Voi non avete fame ragazzi, io non vedo l'ora di mettere qualcosa sotto i denti Un cheeseburger magari o una pizza spaziale, il presto pasto di qualche fa consegne fino a tardi Di lì c'è un altro squalo della sabbia Stai andando Lì c'è un altro squalo della sabbia Ah, li avete sbaragliati, bel lavoro piccoletti È stato incredibile, grazie mille Ed ecco il vostro overboard Wow, è anche autografato A Ratchet e Clank, gli amici più spaziali mai incontrati su un pianeta alieno stile Grande Riuscirai a tornare a casa da solo? Me la caverò Anche se non potrò partecipare al gran premio di overboard di Blackwater City Bella fregatura Ehi, qualcuno di voi piccoletti ha visto il mio agente? Oh, fa lasciarlo qui Non è un grande amante della natura Non è un grande amante della natura Oh, no Oh, no Non è il grande amante della natura Ma Anda tutto a voto Ehi, qualcuno di voi leggere al granbek E il grande amm market Beh segura... Attenzione potenziale cliente Sebbene il paradiso dello sport match mark sta per tutto entusiasmo In questo momento stai entrando in un'area riservata Sei pregato di abbandonare il cantiere Oh oh, I couldn't punch it Era l'ultimo! È incredibile Attenzione potenziale cliente Apprezziamo il tuo interessamento per il paradiso dello sport, McMarx Ma il tuo rinchiuto ad allontanarti ci costringe ad attivare il costruttobot Buona giornata I miei sensori rilevano uno strano segnale energetico vicino ai bersagli dello Swingshot Forse è un gadget della Drac Industries D'accordo, diamo un'occhiata in giro Vedo che avete trovato il mio negozio Allo stato attuale non si direbbe, ma sarà fantastico! Ci saranno Overboard, un percorso per Swingshot e anche un chiosco di tacco aperto a tutte le ore per gli spuntini notturni Intruso rilevato nel settore 4 Costrutto bot allertato Costrutto bot allertato Non finiscono mai! Attenzione potenziale cliente I nuovi modelli di overboard, moto gravitazionali e girocicli non saranno disponibili prima del prossimo autunno. L'unica cosa che potrai trovare tu è la morte. Ehi, sono lo Skid McMarks! Come saprai, sono un talento naturale dell'Opery. E a proposito di natura, ti sei nel reparto integratori vegetali. Mi ringrazierai, bello! No, dico davvero, mi ringrazierai. No, dico davvero, mi ringrazierai. Ehi, arrivo. Gio cotto di natura. Perchè, mi ringrazierai. Grazie a tutti. 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 Ottimo, ottimo, siete grandiosi. Avreste mercato. Siamo felici di aiutare. Vi siamo molto grati per il vostro aiuto. Dove pensate di andare? In ospedale direi? Grazie a tutti. Sei emozionante? Grazie a tutti. È arrivato, amici, amici, ci vediamo per la galassia. Wow, abbiamo salvare la galassia. Wow, abbiamo salvato una celebrità. Darò un'occhiata a quella gara di hoverboard. Ratchet, vediamo il resto del paradiso. Un'occhi, un'occhiata. Un'occhi, un'occhiata. Un'occhiata, un'occhiata. Recita la parola d'ordine. Un'occhiata. 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 Un'occhiata, un'occhiata. 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 Ratchet e Clank trovarono un idrodislocatore portatile Progettato dal dottor Nefarius Il dispositivo prometteva di spostare l'acqua da un luogo all'altro Progettato dal dottor Nefarius Attraverso la semplice pressione di un tasto il duo poteva ora riempire un'intera piscina Ideato per sturare i bagni delle Valkyrie, l'idrodislocatore sarebbe stato un prezioso alleato di Ratchet nell'esplorare le fogne della galossia Dovremmo tornare alla nave Grazie 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 Hai appena reso un'ottima arma ancora migliore Allora, adesso dove si va? Su Nebula G34 c'è ancora un gadget Per entrare in questa struttura ci serviranno strumenti avanzati Possiamo trovarli su Rilgar Grazie 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 Grazie